ciao bimbi bentornati in sezione ragazzi siamo nella nostra biblioteca da favola ma prima di svelarvi il titolo della lettura di oggi vi facciamo vedere una sua pagina speciale lo vedete questo bimbo è il nostro protagonista e sta passeggiando per una via molto trafficata della sua città chissà dove vuole andare e che cosa vuole fare starà forse per prendersi un panino in panetteria oppure vorrà imparare a suonare il violino oppure fare un corso di karate oppure di yoga o magari vuole imparare una nuova lingua e secondo voi eccolo qua sta entrando in un negozio particolare ma guardiamo un po ci sono dei trofei qua e al centro un leone vediamo insieme roar come diventare un leone in soli sette passi di john agee grandi leoni della storia non è facile ottenere il diploma da leone io lo so ho fatto il corso il mio maestro era un professionista ci sono sette passi nel percorso per diventare un leone mi ha detto ma prima dobbiamo fare un po di esercizio abbiamo fatto il leone a testa in su il leone a quattro zampe il leone a testa in giù il leone in rotolante il leone volante e poi abbiamo agitato la criniera passo 1 sembrare feroci guarda me bisogna tirare fuori gli artigli mostrare le zanne e spalancare le fauci io ho sfoderato le tre mosse più spaventose che conosco il leone però non si è impressionato passo 2 il ruggito è facile fai un bel respiro e ruggisci più forte che puoi nel microfono io ho fatto un bel respiro io ruggito più forte che potevo il segnale è debole c'è da lavorarci mi ha detto il leone passo 3 scegliere cosa mangiare il leone mi ha fatto vedere il menù non c'è niente fuori menù gli ho chiesto tipo non so degli spaghetti il leone mi ha ringhiato contro noi non mangiamo spaghetti al massimo ti posso offrire del topo ruspante o dei bombati ma anche un'iguana biologica non ti va oppure degli gnu allevati al pascolo o delle antilopi sono ottime a me piace il bradipo il formichiere ma tutti dicono che meglio del facocero non c'è niente passo 4 i movimenti furtivi ci siamo intrufolati nel bosco cercando di essere invisibili ci siamo nascosti tra i cespugli ti vedo la coda mi ha detto il leone ci siamo nascosti anche dietro gli alberi la coda mi ha detto il leone si vede ancora passo 5 la corsa vedi quell'albero mi ha chiesto il leone io mi sono guardato intorno questo alberello qui no quello grande lassù sulla collina più lontana ci vediamo lì tra cinque minuti ci ho messo un'ora devi andare in palestra mi ha detto il leone passo 6 il balzo è facile prendi la rincorsa e poi salti addosso a quella signora ma si spaventerà a morte beh l'idea è quella così ho preso la rincorsa e ho fatto un bel balzo ma che micetto carino mi ha detto la signora ti sei perso le ho risposto il leone ha dato uno sguardo ai miei voti non sembrano molto promettenti passo 7 fare la guardia agli amici ho avvistato subito un micetto amico o nemico mi ha chiesto il leone facile ho risposto amico e il cane mi sono lanciato in un rugito feroce ho tirato fuori gli artigli mostrato le zanne portato le zampe a terra agitato la criniera e poi ho iniziato a correre più veloce che potevo e ho fatto un bel balzo proprio come un leone bravo bravo mi ha detto il leone ed è così che ho ottenuto il mio diploma diploma da leone ne sono molto fiero ma ora i mici del quartiere non mi lasciano più in pace ma ora i mici del quartiere non mi lasciano più in pace a con il salti e lo sfondo Grazie.